Sono Gustavo Taleggio e sono a Cagliari dal signore Fisio. Salve signore Fisio, ma non ci siamo già visti? Mi ricorda il signor Ciro da Napoli. Io a Fisio sono, in Sardegna vivo, capito mi hai? Capito ti ho. La missione di oggi è far innamorare il signore Fisio del sapore sorprendente del taleggio di OP. Io ho innamorato sono solo di una donna. Sarda? E io, alici. Prendi Fisio, il taleggio è buono anche con le alici. E' un argento, buono è, ma sardui. No, taleggio è morbido, vellutato e sta bene con tutto, anche con i maloredus. Molto guato, ma sei matto. Maloredus e taleggio, provali. E ad Alizio chi glielo dice? Cosa? Che di taleggio innamorato sono. Aio, Fisio, missione compiuta. Il taleggio è piaciuto anche in Sardegna. Foto ricordo tra buone forchette? Aia! Che di taleggio è piaciuto anche in Sardegna. Che di taleggio è piaciuto anche in Sardegna. Che di taleggio è piaciuto anche in Sardegna.